Arpal ha partecipato con Federico Gaino all'attività in videoconferenza del progetto Nautici in Blu. L'iniziativa vede tra gli altri il coinvolgimento di Marevivo e il supporto organizzativo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle professioni legate al mare, creando lo stesso tempo in loro la consapevolezza che questa è una risorsa da preservare. L'intervento di Arpal ha avuto come pubblico gli studenti dell'Istituto Nautico Capellini Sauro della Spezia. Di cosa si è parlato? Abbiamo parlato delle attività di Arpal in generale, quindi i vari monitoraggi che Arpal svolge, le attività sul mare e la motivazione che si hanno, quindi la salvaguardia dell'ambiente marino e la conoscenza dello stato di salute dell'ambiente marino per valutare quali misure sono necessarie e per valutare l'efficacia di quelle che sono già state intraprese. Nautici in blu è un'iniziativa rivolta ai giovani, quindi è ancora più importante lanciare questo messaggio da parte dell'Agenzia? Assolutamente, è un'iniziativa rivolta agli alunni degli istituti nautici che peraltro saranno soggetti in futuro particolarmente legati all'ambiente marino di cui oggi ci siamo occupati.